Amici di Youtube, ben trovati a Marco Liguori in un periodo decisamente denso di eventi sismici. Segnaliamo un nuovo violentissimo terremoto di magnitudo 6,3 della scala Ritter. Il sisma ha colpito una delle località più belle al mondo e prima di sapere di più vi ricordo che a 200 mi piace pubblicherò immediatamente un nuovo video. Un terremoto di grado 6,3 ha colpito la Costa Rica nella giornata di sabato, ma fortunatamente non abbiamo dati relativi a danni a persone o cose. Il sisma è avvenuto al confine con il Nicaragua nella parte alta del paese, nella località di Tamarindo. Il terremoto ha avuto una profondità di 18 chilometri, ma come già detto in precedenza non si registrano danni. Il secondo me Marco Liguori tuttavia monitorerà gli eventi sismici sia in Italia che nel resto del mondo. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella ai amici di Youtube. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video. Ciao a tutti. Grazie.